ciao a tutti oggi prepareremo gli spaghetti con filadelfia cotto e zafferano il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono spaghetti filadelfia prosciutto cotto tagliato a pezzetti burro acqua calda zafferano pepe sale e granella di pistacchi per decorare diamo il via la ricetta per prima cosa cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro ed accenniamo il bimbi per 3 minuti 100 gradi velocità 1 aggiungere il prosciutto e fare insaporire per 3 minuti 100 gradi antiorario velocità 1 aggiungere l'acqua zafferano il pepe e il sale ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 100 gradi antiorario velocità 1 aggiungere la filadelfia ed azioniamo il bimbi per 2 minuti antiorario velocità 1 la crema è pronta condire gli spaghetti spolverizzando con granella di pistacchi e pepe nero spaghetti con filadelfia cotto e zafferano grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti